Il Tar del Lazio ha accolto la sospensiva di Strada dei Parchi. La concessionaria delle autostrade di Lazio Abruzzo A24 e A25 aveva presentato ieri sera un ricorso in risposta alla revoca anticipata in danno, cioè per inade impienze contrattuali della concessione in scadenza 2030 decisa dal Consiglio dei Ministri nella riunione di giovedì scorso. Su cosa si fondava il ricorso? 94 pagine per spiegare come la decisione del Governo di revocare la concessione autostradale a Strada dei Parchi per le arterie A24 e A25 che poteva avere conseguenze peggiori degli eventuali benefici che si cercava di ottenere. Gli avvocati della società dell'amministratore delegato Riccardo Mollo, che fa parte integrante della holding Toto, hanno spiegato ai giudici del Tar come la mancanza di introiti che sarebbero arrivati dai pedaggi autostradali innanzitutto avrebbe inclinato la stabilità di Strada dei Parchi, esposta con istituti finanziari per oltre 380 milioni di euro. Questo l'avrebbe esposta al rischio default perché non sarebbe più stata in grado di assolvere in maniera concreta le obbligazioni. La conseguenza più diretta a quel punto sarebbe stata quella di un effetto a cascata sulla forza lavoro di Strada dei Parchi o almeno di quella ampia fetta che non sarebbe stata assorbita all'interno di ANAS che subentra. A quel punto quei dipendenti si sarebbero ritrovati a perdere in maniera quasi automatica il posto di lavoro con inevitabile ricaduta sull'intera holding Toto di cui Strada dei Parchi fa parte. Ovviamente sarebbe stato un colpo anche al Pilla Abruzzese molto duro. Così hanno scritto i legali Cancrini, Luciani, Vaccarella, Fortunata e Criscuolo. Il Tribunale amministrativo ha esaminato anche quello che secondo la società ricorrente è un'evidente sproporzione tra il caso SDP e la vicenda del Ponte Morandi di Genova. Le gravi inadempienze che hanno suggerito al governo la revoca della concessione in Abruzzo non è stato un concetto applicato ad autostrade per l'Italia nella tragedia del capoluogo Ligure. Altro punto sarebbero stati disagi per l'utenza in tratti autostradali non più manutenuti da una società che conosce perfettamente le due arterie che collegano l'Abruzzo con Roma. È evidente dunque che questo è il primo atto di una battaglia legale molto dura. SDP ottiene dunque la sospensiva con la Corte Costituzionale che può dichiarare illegittimo il decreto legge che di fatto la estromette dalla gestione di A24 e A25.